Sette gol nelle ultime due partite, cinque da quattro dei nuovi arrivati, sei punti e due prestazioni più che convincenti, in cui hanno brillato anche giocatori che avevano fatto fatica ad inizio stagione. Un mercato, quello invernale, disegnato dal DS Enzo De Vito, che sta incidendo non poco su una squadra rinata, anche grazie a Massimo Rastelli che ha avuto il coraggio di aspettare Michele Marconi. Ma andiamo per ordine, nella vittoria del Viviani di Potenza, sono andati a bersaglio Benedetti e Marconi, quest'ultimo con una doppietta, entrambi hanno sfruttato il piede galdo di Tito. Ieri c'è stato un gol straordinario di Mazzocco, che ha preceduto una rita strettanto bella su un'azione manovrata di D'Angelo, che ha disegnato una parabola stupenda, così come è arrivata una prova di grande sacrificio da parte di Marconi in attacco e una prestazione attenta di Benedetti nel reparto difensivo. Nella gara contro il Crotone si sono visti gli inserimenti delle mezzale, cosa su cui Massimo Rastelli punta molto, tutti giocatori che sono giunti all'ombra del partegno con voglia di riscatto, elementi che hanno preso per mano la formazione bianco-verde, aiutandola sin da subito a rialzare la china. Ma del resto, i giocatori importanti, quelli che hanno qualità, ci mettono poco ad entrare nei meccanismi e divenire leader. E l'Avellino di quest'anno aveva proprio bisogno di questo, per tornare protagonista di giocatori dal giusto carattere, in grado di riaccendere l'ambiente. All'appello manca ancora ma va tutto un cara, ma siamo certi che anche lo spagnolo di origine senegalese darà il proprio contributo per un lupo pronto ad essere in mina vagante nella post-season.